Si sblocca il Catanzaro, lo fa nella gara di ieri, domenica 1 settembre, contro la Carrarese dell'ex Mr. Calabro. Un gran Catanzaro, un Catanzaro che aveva soprattutto bisogno di vincere, non importava tanto come, specialmente dopo il 2-0 subito a Cesena nel turno infrasettimanale, che aveva lasciato tanti strascichi anche a livello di prestazione ed aveva fatto sorgere tanti dubbi, tante domande. Invece c'è stata una risposta, una vera reazione da parte del Catanzaro, una foca agonistica, così come ha dichiarato Mr. Calabro a fine partita per elogiare la sua ex squadra, che ha meritato di vincere ampiamente questa sfida, sotto il punto di vista anche delle occasioni, forse tre gol sono anche un po' pochini, addirittura un Catanzaro che passa tra virgolette da un eccesso all'altro, dal bruttissimo 2-0 subito a Cesena, un 3-1 contro la Carrarese, che addirittura sa di risultato stretto. Tantissime le note positive, come è giusto che sia, il ritorno al gol della coppia, dei gemelli, del gol Iemello e Biasci, si è sbloccato il risultato con il gol di Biasci, un gol non tanto da centravanti ma davvero opportunista, lo sappiamo, le conosciamo, le caratteristiche di Tommaso Biasci, un giocatore che quando vede una palla in area di rigore non se lo fa ripetere due volte prima di scaraventarla in rete, un giocatore che sicuramente non ha nella prestanza fisica la sua dote migliore, però nella profondità, nell'essere sempre fastidioso per i difensori avversari, ne fa sicuramente tanto, lui ha sbloccato il risultato, lui ha fornito l'assist a Pontisto, proprio come era capitato contro il Sassuolo, sempre in quella porta, nel secondo tempo più o meno sempre in quel minuto, un giocatore che per fortuna del Catanzaro è rimasto a Catanzaro, ma bisogna a mio modo di vedere veramente sfruttarne le caratteristiche senza chiedergli compiti per i quali non è particolarmente adatto, perché poi lo si è visto ieri, quando gli si chiedono determinate cose, Piacci risponde e risponde presente, così come ha risposto presente in Serie C, ha risposto molto presente anche in Serie B l'anno scorso, e ieri devo dire che ha dato prova di quelle che sono le sue caratteristiche. A mio modo di vedere la partita si è tra virgolette decisa alla fine del primo tempo, perché Catanzaro subisce il gol dell'1-1, una sorta di déjà vu, cambiano tra virgolette gli allenatori, però non cambiano i modi di subire gol, con questo cross sul secondo palo, e Shittum che ha disputato una grandissima partita, specialmente in fase di proposizione, non è la prima volta che purtroppo si fa anticipare sul suo palo da un avversario, e così è raggiunto il pareggio della Carrarese. Ecco, se il primo tempo si fosse concluso sull'1-1, con un Catanzaro che aveva comunque espresso una grande more di gioco, non so come poi sarebbe andata nella ripresa. Invece è lì che secondo me si è decisa la gara, quando praticamente all'azione successiva si può dire che Catanzaro ha trovato il 2-1 con un bellissimo cross di Shittum, con il piede che non è il suo, e non è la prima volta che accade, e si è fatto trovare Pietro Iemmello, quindi anche lui si è sbloccato in questa stagione con un bellissimo colpo di testa che ha trafitto l'ex. Bleve erano due, gli ex in campo per la Carrarese, Bleve il portiere che difese la porta del Catanzaro praticamente nella stagione poi del lockdown, quella che si è conclusa, insomma la stagione era la stagione del 2019-2020, quando dopo l'infortunio capitato a Di Gennaro fu preso, fu acquistato Bleve in prestito, se non vado errato, da Lecce, se la memoria non mi inganna, è difesa la porta del Catanzaro fino al playoff contro il Potenza, poi le strade si separarono. L'altro ex era Marco Imperiale, ovviamente di più recente, no, Marco Imperiale che era del 2017-2018, disputò l'inizio della stagione della prima, della prima stagione noto, ieri è stato schierato da Braccetto, il mister Calabro lo sta impiegando da Braccetto, il Catanzaro giocava soprattutto da terzino-sinistro, e diciamo erano due gli ex in campo, l'importante, ripeto, è stato quel 2-1 di Emello a fine primo tempo, è lì che la gara secondo me si è decisa, perché poi chiudere il primo tempo sul 2-1, rispondere immediatamente al pareggio della Carrarese, ha mandato le squadre negli spogliatoi in ben altro modo rispetto ad un 1-1 che sarebbe stato alquanto immeritato per gli uomini di Calabro, perché veramente la squadra di Caserta ieri ha giocato bene. Ora, ovviamente si possono sollevare i dubbi sulle qualità della Carrarese, una squadra che è stata promossa in Serie B tramite play-off, un po' a sorpresa, ricorda, tra virgolette, se mi si può passare il termine, un po' la storia dell'Ecco, ovviamente la Carrarese di Calabro non vuole fare quello che ha fatto l'Ecco dell'anno scorso, però le qualità di questa squadra sono un attimino da rivedere per la Serie B, anche se hanno già trovato il primo successo, venivano al Ceravolo dopo la vittoria contro il Sud di Roll, e sicuramente la Serie B è una categoria particolare, una categoria dove veramente basta guardare la classifica di queste prime quattro giornate per rispondere a questi dubbi. Ci sono praticamente la prima in classifica, le prime in classifica hanno otto punti, rimane ultimo il Cosenza con un punto, ma con quattro di penalizzazione, fino ad ora queste prime quattro giornate stanno dicendo che non esiste una squadra materasso, ma che anzi, tutte le partite possono finire in tutti i modi possibili, puoi vincere una partita in maniera roboante, e le puoi perdere la successiva in maniera deprimente. Quindi era veramente importantissimo vincere per il Catanzaro, un Catanzaro che poi ha trovato, come dicevo prima, il 3-1 con Pontisso, secondo gol in stagione, secondo gol sotto la porta, nella porta della curva riservata agli ospiti, con un inserimento. Ecco, su questo giocatore secondo me bisognerebbe anche aprire una parentesi, perché Simone Pontisso è praticamente la riserva di Verna e Ghiona nella stagione della promozione in Serie B, un giocatore che comunque si è fatto sempre trovare pronto, un giocatore diligente, al quale sicuramente non bisogna chiedere poi troppi compiti di copertura, ma che sta dimostrando come gli inserimenti facciano parte delle sue qualità principali. Ha chiuso la stagione scorsa praticamente da titolare, scalzando poi praticamente Pompetti, che complice anche l'infortunio di Ghion, si era un po' impossessato del posto da titolare, poi era tornato Ghion, poi si è rifatto male Ghion, insomma, poi alla fine dell'anno scorso Vivarini puntò su Pontisso, e Pontisso rispose molto presente con il gol contro il Pisa, come il gol contro il Venezia con un inserimento, sta rispondendo presente anche in questa stagione, però sta rispondendo presente soprattutto sotto questo punto di vista, degli inserimenti, dell'arrivare alla conclusione, del rendersi pericoloso in fase offensiva. Soprattutto in questo modulo, che sta poi utilizzando Mr. Caserta, ha utilizzato ancora il 3-5-2, era prevedibile che optasse per questa soluzione, ora, ecco, sull'allenatore, sul Catanzaro, a mercato concluso, si possono finalmente trarre delle prime conclusioni, che poi non sono tanto conclusioni, perché Mr. Caserta è venuto a Catanzaro con l'idea in testa di un 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, poi dipende dalle occasioni, ha dovuto virare su un 3-5-2, si è chiuso il mercato nell'ultimo giorno con dei colpi buoni poi per il Catanzaro, per un Catanzaro che deve raggiungere la salvezza, colpi come Lamantia, come Coulibaly, come D'Alessandro, si è intervenuto, insomma, in tanti ruoli. Ora, come dicevo, anche nei video successivi, ragionando con la testa, bisogna dare del tempo a questi nuovi giocatori per inserirsi, a Mr. Caserta per studiare, per benere caratteristiche della squadra, poi un giudizio definitivo, un primo giudizio definitivo sul Catanzaro, se bisogna darlo, bisogna darlo, come ho detto, secondo me, non prima di metà ottobre, c'è bisogno di amalgamarsi, c'è bisogno di inserirsi, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di capire, poi se Mr. Caserta deciderà di optare ancora per un 3-5-2, per se deciderà di ritornare al 4-2-3-1, 4-4-2, se invece alternerà i moduli anche in base agli avversari, ed ecco perché, ecco perché la sosta arriva nel momento migliore, poi, del campionato, questa sosta in avvio, dopo il mercato, può dare la possibilità, questi 15 giorni, possono dare la possibilità, a Caserta, di studiare bene la situazione, studiare bene la rosa che ha a disposizione, perché poi, così come dicono i tanti addetti ai lavori, il vero campionato potrebbe iniziare veramente dopo la sosta, però il Catanzaro doveva dare delle risposte importanti prima della sosta, secondo me, a mio modesto avviso, le ha fornite, le ha fornite anche alla grande, con una prestazione veramente sontuosa, contro la Carrarese, ed ecco che si può guardare alla sosta, e soprattutto al futuro, con uno sguardo un po' diverso rispetto a quello contro il Cesena, un Catanzaro che, deve cercare di, ecco, non subire, come sempre, gli stessi gol, e di fornire questo tipo di prestazioni, perché sicuramente si possono togliere tanti sassolini, in una serie B, che come tutte, tutte, veramente tutte, le serie B, sono serie B complicate, complesse, dove veramente, con la mia idea, che con 43-44 punti, rischi addirittura i play out, e con 53-54 punti, puoi fare veramente i play off, ci risentiremo, sicuramente, dopo la sosta.